Un giorno fa un gruppo che definirei di World Music, che ha molti riscontri, funziona molto, è molto apprezzato all'estero, corde oblique, ci sono venuti a trovare Riccardo Principe insieme a Claudia Sorvillo e ci hanno eseguito per noi due brani tratti dal nuovo album che è The Stones of Naples. Ascoltiamo il primo intitolato La Quinta Ricerca, dunque corde oblique. Grazie a tutti. Ciclopi ridenti sono due continenti, uno marita l'arte e l'altro cieco sente. Un uomo alla ricerca di sole e sensazioni, forse non ne sa niente. Ma mi ha insegnato il suono. Sono le, sono le sensazioni che tengono per mano la mano di qualcuno. Sono le, sono le parole che accompagnano per mano la storia. La storia, la storia, la storia.